www.sitri.com Fiii figli de 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 de... Oh, ritardato, abbiamo cominciato mo' E' zitto, SICRIU! Ma poi senza comandi non va... Che cazzo ne sai che questo è wireless? Scriuuki! Scriuuki! Sto cercando di sentire... Sto cazzo di farm, te le è piaciuto? No, ma sono totalmente refrattari queste cose Potrai guardare, fammi vedere un'altra puntata, vediamo se mi convince No, allora io voglio capire una cosa Suo format, vi piace o non mi piace? Devo capire, mi fai vedere un'altra puntata Qua si è ritardato, non vedi che si è ritardato Vuole fare il beat maker Senti, andiamo, no scusate Non voglio scazzare nessuno, ci vediamo l'altra Daglie Ciao Massi Benvenuti a una nuova puntata di Show Pizz Oggi siamo a Roma E non si scherzano cazzo Buongiorno ragazzi Bella fuci Bella Bella film Allora, benvenuti a Show Pizz Allora, vi sfiderete a realizzare un beat In un'ora Con una tematica Siete pronti? Prontissimi Siamo andati pronti Show Pizz Allora, adesso i ragazzi sorteggeranno un tema Il gioco delle tre carte Non è il napoletano È il gioco delle tre carte Per una Roma per... Per truffare Allora, io metterò delle carte sul tavolo Ma questa volta Rispetto alla volta precedente I temi saranno due E non uno Siamo a casa Del fuggi Prego fuggi Lasciuto io Vai Allora, vediamo Aspetta Va bene Allora Il primo beat maker Farà un beat evocando il Giappone Wasabi Phil, scegli tu Il rosso l'ha sempre portato bene Per Phil, invece Il tema Sarà I film western Winchester Ragazzi I temi sono chiari Io campiono Quindi dovevo andare nel negozio di dischi Un po' di digging in the crates Qua siamo da Pink Moon Negozio storico romano Di dischi E mo te faccio spendere un botte di risolta Ma poi Andiamo Allora, iniziamo con le colonne sonore E sicuramente la direzione in cui andare Quindi niente Iniziamo a fare un po' di digging serio Compro la cieca Perché innanzitutto è più divertente Perché non so quello che trovo Finché non vado ad ascoltare in studio Quello che ho trovato E secondo perché Voglio sfidar Fuji così Siamo appena tornati al Fuji studio Come vedete al mio fianco C'è una presenza oscura Che si chiama Franco Negre Non si fa oscura Negre per forza Step Fuji e Mr. Phil si stanno preparando Per fare un beat a tema Showbiz Il timer è partito No 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 Ciao La fortuna ha voluto che avessi l'esempio giapponese da scegliere O comunque il tema fosse Wasabi, il Giappone Le mie origini mi permettono di attingere Da compositori interessanti degli anni 60-70 giapponesi Il tema western, il campione l'abbiamo trovato Oh l'ho tagliato, userò questo suono qua Tutto separato qui Posso anche Allora il break beat è un bel break beat, ci piace Però si va a prendere la nostra bella libreria di sample Le andiamo a caricare un po' di casse rubanti E ci andiamo a posizionare il layering sul break beat Così abbiamo una bella pompata del break beat Prima della cura Trovo la cura Andiamo alla Phil Andiamo alla Phil Andiamo alla Phil Andiamo a vedere che cosa combina Phil Londinese, irlandese, mezzo polacco Come si apre sta porta? Questo è un bel siparetto Grazie a me Ah era il contrario La comodità di avere il break tutto spezzato E' che chiaramente posso risuonare tutti i suoni In qualsiasi ordine che voglio io Quindi non devo rispettare per forza il break beat originale Quindi io ho ricreato un pattern che è simile al break originale Che è questo Boh Questa è a premiere eh? Ah ah! Big Fuji rest in peace! FUJI ha finito Il tema era WASABI Cioè il Giappone movimento Sicuramente Questo è il beat di Mr. Phil Il tema era Winchester Quindi? quindi western e siamo andati a prendere non posso dire il nome per non crearti problemi perché se no già sono calabrese, già sono calabrese e mi arrestano il king dei western era già così e niente quindi vogliamo sentire? ce lo ascoltiamo questa è stata un'altra puntata di Showbeats, faticosissima, vi voglio ringraziare davvero tanto siete venuti, sono venuto io a rompere i coglioni, grazie a Fuji, grazie a Mr. Phil Showbeats Grazie a tutti